Musica Naturalmente comprendete che gli argomenti di cui mi occuperò io sono argomenti che in realtà apparentemente non presentano criticità o urgenze. Però in realtà questi sono argomenti che se affrontati riescono a ricostruire alcune cose di questo territorio che sono sotto gli occhi di tutti. Il senso di comunità, il senso civico e anche alcuni, se si può dire, spunti per il risanamento di specificare di questo territorio. E questo lo possiamo fare senz'altro attraverso un percorso culturale che è cambiare insieme a tutti i cittadini. Naturalmente partendo da quello di Borda, che è stato fatto di Borda, attraverso che si è occupato prima di me, ma anche nelle organizzazioni di consigliatura. Per cui partiamo da qui. Tutti insieme, naturalmente io sono sempre a nostra disposizione, sia dell'opposizione che della maggioranza con cui avrò più a contatto, naturalmente come ovvio che sia, però facendo parte di un esecutivo io sarò la persona che cercherà di portare avanti e di realizzare quelli che sono. bisogni, perché no, ma le esigenze, primariamente le esigenze dei cittadini e del nostro territorio. Questo è quello che volevo dire, comunque per qualsiasi cosa, per qualsiasi sollecito, critica, vi potete rintracciare in qualsiasi momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.